Bene, allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti. L'argomento che sostanzialmente mi è stato affidato dai colleghi verte appunto su alcune esperienze che sono funzionali a capire se e quali sono i margini di manovra, le opportunità che abbiamo relativamente alla possibilità di ridurre i contenuti dei pesticidi che sono indiscutibilmente uno dei problemi che come colleghi conoscete tutti insomma. Siamo di fronte a un contesto sociale, culturale, generale nel quale indiscutibilmente la sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale è una parola d'ordine di tutto quello che è la produzione degli alimenti e in questo senso anche relativa alla vitinologia, quindi a quello che ci interessa maggiormente, nel caso specifico è proprio un prerequisito ormai che qualsiasi consumatore, anche il meno attento, ritiene di doversi trovare garantito insomma, che mi sembra assolutamente logico. In questo senso i pesticidi che noi utilizziamo a vari livelli in diversi approcci in agricoltura sono indiscutibilmente qualcosa di un po' delicato e sappiamo che esistono evidentemente i limiti di legge ma abbiamo tutti coscienza che il rispetto ovviamente dei limiti di legge non è più assolutamente sufficiente per porsi sul mercato, è ovvio, deve esistere, punto, quindi quella è la condizione sine qua non per poter essere sul mercato. Tant'è che nelle transazioni commerciali e nei capitolati d'acquisto si cerca via via sempre di definire delle condizioni che per certi versi a noi come produttori le vediamo necessariamente come qualcosa di più stringente, un po' più difficile da raggiungere. Pensiamo ormai a quegli approcci che vedono la misura del numero dei pesticidi che sono presenti come residui nei vini oppure il contenuto complessivo che poi si vuole essere spesso al massimo di qualche centinaio di microgrammi per litro, quindi ben al di sotto di quelli che sono i limiti insomma legali. Sappiamo che esistono dei limiti massimi di residui che sono definiti ma che non lo sono per tutti i principi attivi e non lo sono per molti stati e per quei principi attivi per i quali queste definizioni non ci sono e quei residui non possono nemmeno essere presenti come tali e addirittura non possono essere previste neppure tolleranze e questi aspetti diventano poi doppiamente importanti anche in relazione a quella parte della produzione che si è spostata o si sta via spostando verso produzioni diciamo di tipo biologico o addirittura di tipo biodinamico. Non c'è un vero dubbio che comunque sia i residui di oggi sono più bassi di quelli che erano una volta e quindi questo è un aspetto che possiamo con facilità testimoniare e evidenzia l'attenzione che sia nel campo agricolo che nella fase di trasformazione tutta la filiera ha posto a questo argomento. Dobbiamo continuamente migliorare, non c'è un problema di dubbio, situazione che parte evidentemente dalla campagna ma che riguarda anche l'enologia in particolare nella comprensione di quali sono i margini di manovra che noi possiamo sfruttare o che almeno abbiamo a disposizione quando siamo a livello di cantina. Dalla comprensione di questi margini di manovra nasce un po' la richiesta che dal Cina ha fatto al Centro dell'Estrumento Tecnologico della Fondazione Marca San Michele All'Adige che era quella di testare alcuni loro prodotti enologici di largo utilizzo rispetto alla loro capacità di abbattere e di incidere sulla concentrazione residuale di vari principi attivi operando sostanzialmente attraverso la fase di fermentazione. Richiesta che è venuta come diceva il Centro dell'Estrumento Tecnologico di San Michele perché intanto in quanto dotato di una cantina sperimentale, intanto in quanto dotato dei laboratori, intanto in quanto dotato anche di una certa know-how, di una certa esperienza a questo riguardo è un po' storicamente, istituzionalmente un po' la sede deputata anche all'interno dello stesso ente San Michele All'Adige proprio alla realizzazione di queste collaborazioni sperimentali con l'industria enologica. Da questa logica sono nati sostanzialmente due piani sperimentali. Un piano sperimentale che ha riguardato un carbone granulare che abbiamo utilizzato in microdosi e un altro piano sperimentale che ha utilizzato invece sette diversi prodotti che sono stati utilizzati a dosaggi diciamo così più usuali. Qual è stata la logica di questi piani sperimentali? Una logica molto semplice, quella di andare ad acquisire delle caratteristiche di prestazione, non ci siamo posti in questa sede il problema del perché, il per come, quali siano i meccanismi che portano assorbimento? Siamo semplicemente posti uno obiettivo, ma dal punto di vista complessivo, olistico, quanto riusciamo a tirar giù applicando delle opzioni tecnologiche abbastanza semplificate. Primo piano sperimentale è stato mirato ai fungicidi. Ha visto l'uso di un carbone granulare, dosaggi molto bassi, 2-5 grammi per ettolitro, applicazione S5 mosti bianchi, molto tirati, al di là di ogni ragionevolezza tecnologica se vogliamo, perché siamo andati al di sotto delle 15 unità NTU, quindi vuol dire qualcosa che possiamo considerare quasi demenziale in un processo normale di vinificazione, ma che abbiamo scelto come strategia intanto in quanto volevamo eliminare le interferenze possibili del particellato che potrebbe essere presente, che normalmente è presente e quindi che ci avrebbe determinato poi dei problemi nel poter dire ma quello che troviamo è perché l'ha tirato giù il particellato presente o perché effettivamente era il prodotto che abbiamo utilizzato, che ha lavorato. Il lavorare, come abbiamo fatto, a NTU molto basse ci consentiva di poter dire ragionevolmente la gran parte evidentemente dell'attività poteva essere ricondotta al prodotto utilizzato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi mosti, li abbiamo sporcati, aggiungendo vari pesticidi, vari pesticidi selezionati fra quelli che erano fra i più frequentemente residuali e li abbiamo messi a concentrazione due o tre volte rispetto a quelle che normalmente si trovano nei vini. Questi fungicidi erano antibotritici, erano antiperonosporici, erano antioidici come attività prevalente che sono quelli che vedete lì e siamo andati a guardare un po' di cosette. Una delle prime cose che siamo andati a guardare sono stati gli andamenti fermentativi. Allora vi dico subito, tutto è andato in fondo regolarmente, però abbiamo fatto una piccola osservazione e che nel caso in cui sostanzialmente, nei processi di vinificazione in cui avevamo utilizzato questi micro dosaggi di carbone, rispetto ai controlli che sono le righe continue, sostanzialmente si trovava una situazione che rendeva la chiusura di fermentazione un po' più veloce, un po' più anticipata e in ogni caso tutto è arrivato in fondo regolarmente. Quindi non possiamo dire che i prodotti che abbiamo utilizzato avessero impattato rendendo difficile o impossibile un processo fermentativo. Semplicemente abbiamo osservato che la somma di tutti questi prodotti che avevamo utilizzato, che erano tutti congiuntamente presenti, in qualche modo una piccola differenza la determinava. Abbiamo analizzato i fungicidi con un metodo in HPLC massa-massa e vi farò vedere adesso gli abbattimenti da mosto a vino di controllo, quello fermentato senza che ci fossero dei carboni e poi ragioneremo sui vini fermentati con il carbone. Qui abbiamo gli antibotritici. Cosa osserviamo? Osserviamo che nel passaggio da mosto a vino senza carbone, quindi sono sempre la prima contro la seconda del primo contro il secondo istogramma, rispetto ai diversi principi attivi trovavamo abbattimenti che andavano dall'8 al 52% in funzione del principio attivo. E questo per il solo processo di fermentazione. Per quanto riguardava la presenza del carbone, la fermentazione con questi micro dosaggi di carbone, gli abbattimenti erano, rispetto al vino di controllo, dell'ordine del 6% o addirittura 66%, come nel caso, ad esempio, del ciprodinil. Se andavamo a guardare gli antioidici, gli abbattimenti fra mosto e vino erano dal 31% al 62% del penconazolo o della trifloxistrobina. Nel passaggio, nel confronto, controllo, uso di carbone, si passava con abbattimenti minimali, nel caso della spiroxamina, dove si vede che qui non c'è nessuna differenza, neanche col dosaggio che abbiamo utilizzato un po' più altino, anche se vedete che comunque c'è una tendenza coerente all'abbattimento, oppure qualche cosa di più rilevante, come nel caso del metrafenone, dove praticamente si dimezza rispetto al controllo. Relativamente agli antiperonoscoporici, abbiamo visto sostanzialmente che si va ad abbattimenti dal mosto al vino praticamente inesistenti, come nel caso della fluopicolide, vedete qui non c'è praticamente nessuna differenza, a situazioni invece totalmente diverse, come quella della Ciazzo Famiglia, dove praticamente già il processo di vinificazione, di normale fermentazione, determina un abbattimento più che rilevante, perché siamo abbattimenti del 90%. Da lì in avanti vedete però che ci sono situazioni, come nel caso dell'IPROVALICAR, dove non cambia più assolutamente nulla, quindi non c'è efficacia da questo punto di vista, così come nessuna efficacia reale la vediamo nel caso della Ciazzo Famiglia, che è per questo tipo di situazione. Se guardiamo la somma, cosa vediamo? La somma di tutti questi fungicidi che abbiamo utilizzato, vediamo che passiamo da un mosto che aveva un 400 e qualche cosa, arriviamo a una sommatoria decisamente più bassa, un 30% più bassa, legata al solo processo di fermentazione. La presenza poi congiunta di carbone determinava un'ulteriore 50-80 microgrammi litro, cioè un altro 16-30%, 15-30% di abbattimenti. Ma dal punto di vista aromatico cosa cambiava? Sostanzialmente i dati li vedete qui, il controllo e i due dosaggi. Cosa vediamo? La volatile si abbassa, l'acetaldeide di poco si abbassa, le componenti fruttate si alzano tutte, c'è solo questa molecola che è un solforato che si alza un pochino. Quindi con l'esfrusione solo di questo solforato, un metionolo, sono tutti valori che tecnologicamente dobbiamo ritenere migliori rispetto al controllo. I valori qui sono certamente alti, ma sono motivati da quel meno di 15 NTU che vi ho detto prima, quella demenzialità del livello di torbidità che è all'origine di quei valori. In termini organolettici, cosa saltava fuori? Saltava fuori che il differenziale di piacevolezza nei fermentati con il carbone granulare è sempre stato positivo, cioè vedete di quanto? un 10, 15, 40%. Questo vuol dire che sostanzialmente quella molecola che avevamo osservato in realtà potenzialmente negativa non interferiva e prevalevano le componenti fruttate. Nel secondo piano sperimentale cosa abbiamo fatto? Siamo andati a guardare altri prodotti enologici, lasciati anche questi durante la fase di fermentazione in bianco. Erano lievite, inattivato, pareti cellulari, cellulosa, bentonite, PVPP, chitosano e un nuovo prodotto che l'azienda sta mettendo sul mercato. Anche qui lavorando con 5 mosti bianchi, molto tirati, anche qui bene al di sotto delle 15 NTU, eccetera, mosti che avevano una grandissima variabilità compositiva perché si andava, vedete, da 15 a 27 Briggs, da 3,05 a 3,55 di pH, da 110 a 350 di azoto assimilabile. Ecco, questo aspetto dell'azoto assimilabile è un aspetto che dovremmo tenere un pochino in considerazione, perché possiamo attenderci che qualora i prodotti che utilizziamo vadano a impattare negativamente sulla disponibilità di azoto assimilabile, beh, in linea di principio questo può determinare delle variazioni non così positive dal punto di vista aromatico. Ecco quindi che le osservazioni che abbiamo fatto prima sono fortemente giustificate, ma principalmente con attenzione alla disponibilità comunque complessiva di azoto assimilabile. I mosti anche qui li abbiamo sporcati, li abbiamo sporcati sostanzialmente con gli stessi principi attivi di prima, però con altri 5 insetticidi. Quindi questo è un piano sperimentale con altri prodotti, ma con una serie di insetticidi. Cosa osserviamo? Osserviamo sostanzialmente, qui solo il vino di controllo, rispetto ai vari, tutti i vari prodotti. La riga rossa indica la significatività, dove c'è la stessa riga vuol dire che fra quei prodotti non c'è significatività statistica. Pur a fronte di diminuzioni medie rispetto al controllo, vedete che però la significatività più chiara l'abbiamo rispetto a questo prodotto nuovo che è in fase di uscita, insomma, da parte dell'azienda. C'è qualche differenza significativa, cioè questa qui evidentemente, questo trattamento, questi qui sono diversi dal testimone, questo è abbastanza evidente, però il grosso lo vediamo relativamente a questo prodotto nuovo. Lo stesso dicasi, anche per questi altri antibotritici, dove peraltro c'è un perfetto parallelismo nell'abbattimento via via che vediamo sui dati medi, cioè lo stesso prodotto che abbiamo qui, lo abbiamo anche qui, e vedete che si parte dalla bentonite e si va via via giù alla cellulosa, aprite i cellulari, e lo stesso ordine è questo. Con gli antiperonosporici, anche qui di fronte comunque a una diminuzione di valori medi, la significatività è principalmente rispetto a questo nuovo prodotto. Qui c'è significatività per le pareti cellulari, per la cellulosa, chitosano, rispetto al controllo, qui statisticamente di fatto non si trova significatività, pur a fronte di un andamento, di una tendenza. Se guardiamo gli antioidici osserviamo sostanzialmente che c'è un comportamento sempre in diminuzione rispetto al controllo, più o meno marcato, non sempre statisticamente significativo, comunque che ci sono alcuni prodotti che si muovono, vengono abbattuti in maniera diciamo così parallela dai diversi principi attivi, che è la cellulosa, pareti, chitosano, e il prodotto nuovo. Relativamente agli insetticidi, non so, qui cosa osserviamo? Che rispetto a questo principio attivo non c'è nessuna differenza fra questi prodotti, però c'è un differenziale rispetto al vino di controllo. Quindi tutti, bene o male, hanno contribuito a un abbattimento. Nel dimetohato si trova qualche differenza significativa, e quei periodi cellulari e cellulosa sostanzialmente riducono dimetohato e tiametoxana rispetto al controllo per tutti e due questi principi attivi. nuovamente qui la significatività la troviamo non la troviamo, confermiamo però questa situazione di riduzione, con riduzioni che peraltro nel caso dello spinosad arrivano a essere anche con un diverso, una maggior differenziazione fra prodotti comunque si arriva fino al 50%. Cercando di riassumere cosa vi mostro? Vi mostro che è sostanzialmente un profilo medio di residualità percentuale per ciascuno dei diversi principi attivi. È chiaro che visto così è praticamente incomprensibile, però cosa vediamo? Vediamo innanzitutto che vediamo che c'è un abbattimento sostanzialmente più grosso come abbiamo visto nel nuovo prodotto ma che qualche situazione comincia a essere identificata complessivamente. Nella sommatoria cosa osserviamo? Osserviamo che non c'è non possiamo dire che c'è una differenza statistica fra i diversi prodotti possiamo dire però che insomma qui rispetto al controllo ce ne sono alcuni che cominciano a dare delle risposte più interessanti agli abbattimenti più significativi che sono poi ulteriormente più significativi con il nuovo prodotto. se non c'è questa differenza comunque qui dentro statisticamente possiamo dire però che la sommatoria ci dice qualche cosa almeno come tendenza e vediamo sostanzialmente che questi tre prodotti ventonette lieviti pvpp ci hanno dato sostanzialmente un abbattimento fra il 100 e i 200 microgrammi litro rispetto al 1400 che è un livello alto che avevamo nel vino di controllo. Qui siamo fra un abbattimento fra i 200 e i 300 microgrammi litro chitosano cellulosa qui siamo tra i 500 e i 600 microgrammi litro e questa distinzione in tre gruppi la troviamo all'interno degli antibotritici degli antiperonosporici degli antiperonosporici e degli insetticidi pari pari. In conclusione cosa possiamo dire? Che l'uso delle microdose di carbone che abbiamo visto sostanzialmente in mosti che non sono carenti dal punto di vista nutrizionale è una pratica che si può applicare a rischio praticamente zero che riduce del 15-30% i residui di fungicidi che tende a favorire la chiusura dell'alcolica e che sostanzialmente aumenta gli aromi fermentativi positivi essenzialmente il fruttato dov'è che questa pratica troviamo sia essere ragionevole principalmente dove la quantità e il tipo di fungicidi presenti nei mosti non possono essere definiti a priori che è una situazione direi molto frequente nelle nostre produzioni il prodotto nuovo sostanzialmente che è stato denominato poi dall'azienda comunicazione di ieri a me come fitostop è un prodotto a base di carboni cellulari di pareti cellulari di carboni con la tecnica mini-ture di cui vi è stata presentata soltanto presentata le caratteristiche anche questo applicato in micro dosaggi quindi i 5 grammi per quintale cosa ci ha consentito questo? Ci ha consentito sostanzialmente di tirare giù 550 microgrammi litro 550 microgrammi litro che sono vuol dire approssimativamente il 40% di quello che erano i residui presenti nel vino di controllo oltre a questo in termini di capacità di abbattimento si cominciano ad identificare tre gruppi cioè questo nuovo prodotto fitostop che ha una capacità di abbattimento superiore rispetto a quella cellulosa per reti cellulari e chitosano di per sé e rispetto a quella di lievito inattivato PVPP e bentonite con questo io ho chiuso un ringraziamento a voi tutti per l'attenzione dal CIM per l'invito e ai colleghi di San Michele che nel laboratorio in cantina mi hanno dato una mano e ci hanno dato una mano per questa presentazione applausi